Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti Il più bello era nero con i fiori non ancora passiti All'uscita di scuola i ragazzi mettevano i libri Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e i suoi tagli E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli Oh, 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 oh! che anno è e che giorno è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.